Nato a Bruxelles, figlio del console italiano della città, poco dopo la sua nascita i genitori rientrano in Italia, Paolo Ferrari debutta all'età di nove anni alla radio IAR, con un programma in cui interpreta il balilla Paolo. Nel 1938 avviene anche il suo debutto cinematografico nel film Ettore Fieramosca, regia di Alessandro Blasetti, col nome di Tao Ferrari. È l'inizio di una carriera di attore bambino, che lo porta nei primi anni 40 ad interpretare altri quattro film, con casti importanti. Nel dopoguerra Ferrari riprende l'attività da giovane attore nel cinema, alla radio e quindi alla televisione. Nel 1955 partecipa al varietà radiofonico Rosso e Nero N Grado 2, insieme a Nino Manfredi e Gianni Bonagura. Molto attivo nel doppiaggio cinematografico dalla fine degli anni 40. Ha doppiato la voce di David Niven in Scala al Paradiso. 1948. Franco Cittina cattone di Pier Paolo Pasolini e quella di Jean-Louis Trintinian e Lille. Sorpasso di Dino Risi. Nei primi anni 70 lavora al ridoppiaggio di alcuni film di Humphrey Bogart doppiati in precedenza da Bruno Persa, Il mistero del falco, Il grande sonno, agguato ai tropici. Nel 1959, dopo aver preso parte con Vittorio Gasman e Marina Bonfigli, che aveva sposato tre anni prima, al programma televisivo Rai Il mattatore, ha condotto la trasmissione Giallo Club, invito al poliziesco. L'anno seguente ha presentato assieme a Enza Sampo il festival della canzone italiana di Sanremo, attore di formazione teatrale. Dagli anni 70 ha partecipato a numerosi sceneggiati e miniserie televisive, fra cui quella dedicata a Nero Wolf. Nel ruolo di Archie Goodwin al fianco di Tino Guazzelli. E accadde a Lisbona, al fianco di Paolo Stoppa. Diventa popolarissimo negli anni 60 recitando nelle pubblicità televisive del detersivo Dash. È stato uno dei protagonisti della fortunata serie televisiva Orgoglio, nella quale apparve in tutte e tre le stagioni. In questa produzione riveste il ruolo dell'orgoglioso Marchese Giuseppe Ubrofari. Uno dei personaggi principali e capostipite della famiglia protagonista. Ha fatto parte del cast della sopopera Rai Incantesimo 910 dove ha recitato accanto a Delia, Boccardo, Tillinardi, nel ruolo di Luciano Mauri. È stato poi protagonista nella parte dell'Emmai Pensionato, del serial televisivo di Rai 2. Disoccupati, in 40 puntate, regia di Franza di Rosa con Pierre Francesco Locke, Sabrina Impacciatore, Adolfo Margiotta e Stefano Masciarelli del. 1997. Nel 2006 ha vinto il premio Gasman alla carriera. Nel 2008 torna ad essere testimonia al pubblicitario e protagonista dello spot televisivo Dash, insieme all'attore Fabio De Luigi come suo angelo custode. Nel 2011 è nel cast della miniserie TV in due puntate notte prima degli esami 82.